ciao questo è un breve video per presentarvi la mia ultima creazione che ho fatto questa è una scatola con dentro l'album per un bimbo appena nato di nome francesco e qui ho messo un motivo glitterato dentro l'ho tutta ricoperta con una carta poa e questo è l'album vedete nella copertina ho messo lo stesso tipo di carta glitterata poi ho inserito un pizzo fiocchetti e il nome francesco e questo è la scatola vedete glitterata pure dentro ho messo una piccola tasca con un fiocchetto questo invece è una passamaneria con dei bottoni e dove ho inserito una piccola cartolina con la fata dei fiori questo è lo stesso motivo che è nella scatola il davanti alla scatola questi sono due biberon che ho ritagliato cioè ho disegnato e ritagliato con la silhouette cameo anche questo francesco il nome francesco è stato fatto con la cameo idem per questo anche il fiore l'ho fatto e ritagliato con la silhouette cameo e poi ho inserito una tag vedete queste sono tutte carte che ho acquistato da mille idee e sono tutti sui toni dell'azzurro ovviamente per un bimbo qui ho messo un pizzo in questo porta tag anche questo si apre questo è una carta con tutte lettere qui invece ho fatto diversi scomparti da inserire biglietti tag foto quant'altro qui vedete lo stesso glitter mentre qui dentro si possono inserire piccole foto oppure una scritta secondo quello che vuole mettere la persona che inserirà le foto questa è l'ultima pagina e questa è la copertina ecco e questo è l'album finito di francesco ciao alla prossima